Sarà visitabile fino al 5 settembre la mostra Il Dante di Anzi, l'ospitata dalla Galleria Sagittaria di Pordenone nell'anno delle celebrazioni per i sette secoli dalla morte del sommo poeta. L'esposizione include tra tavole a colori e disegni preparatori un'ottantina di lavori realizzati tra il 1986 e il 1988 e che sono ora visibili al pubblico per la prima volta insieme a una decina di autoritratti dell'artista. Giovanni Toffolo, detto Anzi, tradusse anche molte terzine della Divina Commedia in friulano. Negli anni Ottanta realizzò 63 tavole e 52 disegni riferiti ad alcuni passi dell'opera, specialmente all'Inferno, la cui visione drammatica si incontra naturalmente con la sensibilità espressionista di Anzi. La mostra è curata da Giancarlo Paoletto e dall'artista Aulo Toffolo, figlio di Anzi, visitabile gratuitamente con prenotazione obbligatoria.